La passione è nata da mio nonno, sono cresciuto qua nella russa cucina e ora sto cercando di portare avanti la tradizione, innovandomi sempre di più dai vini alla materia prima del pescato, sempre sui pescherecci, a cercare quel pesce più fresco, mare permettendo e nello stesso tempo abbinare vini, anche i nostri, soprattutto i nostri del territorio, ai piatti che portiamo fuori da cucina. Sono nato allo stadio, sono nato e quindi per me fare lo sponsor Arpisa, essere presente allo stadio è oltre a una passione anche un punto di riferimento. Vi aspetto tutti qua sul mare da noi al ristorante, mi raccomando prenotate perché i weekend siamo sempre pieni e vi aspetto qua.